Dopo il vibrante faccia a faccia mediatico la calma è tornata nello scenario politico retino in attesa del chiarimento, lo sguardo indirizzato verso Palazzo Cavallo, visto che la Lega ha chiamato in causa proprio il sindaco Ghinelli nella interrogazione che ha scatenato il putiferio politico e mediatico. La Lega non aveva mai fatto esplicito riferimento ad una forza politica ma la vehemente reazione di Fratelli d'Italia ha riaperto il quadro. Il caso ha voluto che la polemica sia nata nei giorni della spaccatura al vertice nazionale per l'elezione del Presidente della Repubblica e questa variabile ha reso ancora più incandescente il rapporto tra i seguaci locali di Salvini e quelli di Giorgia Meloni. L'impressione è che fino al 13 febbraio tutto resterà bloccato. Venerdì 11 infatti ci sarà il pronunciamento del Tar sulla sospensiva che riguarda la presidenza estera dopo il passo dell'Anac nei confronti di Francesco Macri.